Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip, nel contesto dei recenti pensieri emersi dalla madre di Denise Pipitone in occasione del compleanno della giovane scomparsa, si delinea un nuovo e profondo aspetto. La madre, con grande determinazione, nutre una fede ininterrotta nella possibilità che sua figlia sia ancora tra noi, attraverso i suoi messaggi sui social media, la madre non ha fatto altro che esprimere il suo costante desiderio di riabbracciare Denise, sotto lineando con intensità a quanto la giovane sia sempre viva nei loro cuori e persistente nei loro pensieri. Un sentimento avvolto da un'implicita certezza che Denise potrebbe essere ancora fra noi. Nonostante il trascorrere degli anni da quella tragica scomparsa, intrigante e affascinante è l'idea della madre che non cessa di sperare che la vita di sua figlia non sia stata irrimediabilmente distorta dalla spietata realtà umana. La sua speranza in una giustizia ancora da compiersi è intrecciata con la ferma convinzione che, in un giorno futuro, Denise possa finalmente fare ritorno a casa. La madre di Denise continua a mantenere viva la memoria della giovane, con la costante speranza di un epilogo che possa riportare la ragazza tra loro.